Un paese in lutto, una comunità sconvolta. La tragica morte di Federica Canneti, la ragazza di 22 anni, morta nell'incidente di venerdì sera a Vitiano, lungo la regionale 71, lascia un vuoto immenso non solo tra i familiari ma anche tra tutti gli amici che la apprezzavano e le volevano bene. Intanto la Polizia Municipale di Arezzo, coordinata dal PM Emanuela Greco, sta cercando di chiarire la dinamica dello scontro in cui sono rimaste coinvolte tre auto e nove persone. Tra i feriti due sono ricoverati in prognosi riservata, uno a Siena e l'altro ad Arezzo. I mezzi sono sotto sequestro. L'inchiesta, come detto, è coordinata dal sostituto procuratore Emanuela Greco della Procura di Arezzo, che nella serata di ieri ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia per i funerali. Un sabato di dolore nella cittadina della Val di Chiana, funestato anche da un'altra tragica morte avvenuta alla stazione di Castiglionfiorentino con un 44enne travolto dal treno.